Il beach volley e sport estivo per eccellenza e anche in provincia di Bergamo ha sempre più seguito i praticanti. Domenica scorsa sui due campi dell'Aqua Club di Grumello del Monte è andato in scena il secondo appuntamento stagionale con il campionato bresciano-bergamasco, realizzato in collaborazione con la FIPAB. Alla sesta tappa dell'intesa lavoro Beach Volley Tour, il circuito organizzato da 12 anni dall'associazione bresciana Volley Amore, hanno partecipato 48 atleti di buon livello provenienti da tutta la Lombardia, dal Veneto e dal Trentino. Protagonisti anche numerosi atleti bergamaschi, tra i migliori lazzarini in coppia con il Veneto dal Molin, fermatosi nei quarti e sicuramente Pezzoni che con il milanese Maccarelli ha conquistato il secondo posto dopo una bella finale, persa 21 a 17 contro il Trentino Baratto in coppia con il Veneto Bertelle. Il torneo di Grumello è servito anche al selezionatore regionale FIPAB Fabio Galli, già campione d'Italia, e al suo collaboratore tecnico bergamasco Incitti per verificare lo stato di forma delle giovani coppie under 18 che si stanno giocando l'accesso al trofeo delle regioni di Cesenatico. Il 2x2 maschile e femminile tornerà nella nostra provincia domenica 22 luglio con le due torri contest in programma all'Aquadrime di Osio sotto. Le iscrizioni per i prossimi tornei sono aperte, in particolare per il Big Grad 1 Checkpoint in programma questa domenica sugli otto campi dell'Arena Beach di Cellatica in provincia di Brescia. Contemporaneamente si giocheranno sette tornei, attesi più di 200 atleti da tutta la Lombardia. Contemporaneamente si giocheranno sette tornei, attesi più di 200 atleti da tutta la Lombardia.